Dunque, Lauro come Vigilio, il nuovo arcivescovo di Trento, nominato il 10 febbraio, sulle orme del successore, il patrono della diocesi. Il titolo di copertina del nostro settimanale è un inserto di 16 pagine, in parte preparate nei giorni scorsi, per segnare, sottolineare questo appuntamento storico della nostra chiesa di Trento, vissuto nella giornata del mercoledì delle ceneri. I nostri lettori troveranno non solo la cronaca viva, i primi commenti su questo nuovo pastore trentino, ma anche un approfondimento sulla figura del vescovo ai tempi di Francesco in un primo bilancio dell'episcopato di Monsignor Luigi Bressan con un ritratto umano ed un riepilogo delle sue ultime mesi di attività. È un numero da conservare, vorremmo che tutti i trentini lo potessero tenere nelle loro case, lo hanno preparato con cura i colleghi di Vita Trentina e i colleghi di Radio Trentina in Blu attraverso la diretta che ha accompagnato per più di due ore l'annuncio dato ieri a Trento. A tutti gli amici lettori, buona lettura.